La soluzione Rialine Compact è certificata in ambito ISE e in ambito UL, con corrente nominale fino a 125 A e la corrente di cortosicurito di picco fino a 25 KmA. L'elemento principale della nostra soluzione è il board, ovvero la base in cui sono installate le barre di rano. Come vedete il board è fatto da una parte frontale chiara con delle feritoie che ci permettono di installare i componenti sulle barre. Nella parte posteriore invece troviamo la parte scura, dove ci permette di fissare il board direttamente alla pesta di montaggio con le viti e di fissarlo direttamente alla guida DIN attraverso questa scanalatura. I cavi vengono inseriti nella parte frontale dell'adattatore nell'apposita feritoia e il fissaggio viene fatto con una vite a un quarto di giro. Nella parte posteriore dell'adattatore abbiamo il sistema di blocco sul board e i punti di contatto che avvengono all'interno del board. Altri adattatori che possiamo utilizzare sono l'adattatore di connessione per montare le partenze motori. Nella versione che vediamo qui, Comfort. La versione Comfort permette di avere i cavi già installati, quindi una soluzione precablata. abbiamo una guida DIN che si può muovere e nella parte dietro, come per l'altro adattatore, abbiamo il sistema di fissaggio, in questo caso è doppio al nostro board e i punti di connessione per la derivazione dell'energia. Altro adattatore che voglio presentarvi è la partenza motore compatta, quindi una soluzione dedicata alla partenza motore elettronica con un contattore statico interno e quindi con una riduzione degli spazi molto importanti. Grazie a tutti.